E delle abitazioni del futuro, dove l'uomo è coinquilino con la natura e non un intruso, si sta parlando in questi giorni a Climaus, a Bolzano, città con una lunga tradizione verso la coesistenza uomo-ambiente, che da anni è all'avanguardia su questi temi. Climaus è la fiera annuale internazionale del risparmio energetico, dalla domotica all'energia, passando per materiali ecosostenibili fino all'innovazione della mobilità. Sono oltre 400 gli espositori da tutta Europa e molte le start-up.